Gossip uomini e donne, Gemma smascherata da Tina, ecco il segreto shock Cancelletto Gemma Galgani in quest'ultimo periodo di permanenza uomini e donne sta nascondendo un segreto che potrebbe mettere a repentaglio il suo percorso nella storica trasmissione di Maria De Filippi? E questa l'indiscrezione delle ultime ore alimentata da una segnalazione di Cancelletto Tina Cipollari, la quale ancora una volta durante una delle ultime puntate del Trono over ha ammosso dei dubbi sulla dama torinese, lasciando tutti gli spettatori da casa e in studio senza parole Gemma Galgani nei guai a uomini e donne, la segnalazione di Tina il motivo? Tina Cipollari ha dichiarato di aver ricevuto delle segnalazioni social clamorose su Gemma Galgani, la quale pare che negli ultimi tempi sia stata avvistata in giro per le strade di Torino in compagnia di un uomo misterioso, il cui nome non è stato rivelato Tuttavia non si tratterebbe di un cavaliere noto al pubblico di Cancelletto uomini e donne, dato che sarebbe una persona estranea al mondo dello spettacolo e della tv che tuttavia sarebbe in grande confidenza con la dama torinese del dating show Mediaset Una persona a Torino e che per non farsi riconoscere durante le sue uscite serali, si incappuccerebbe per bene, così da sfuggire ai paparazzi e anche alle foto dei fan che potrebbero ovviamente segnalare tutto alla redazione di Uomini e donne Il segreto di Gemma Galgani, è fidanzata? Insomma una segnalazione bomba, la quale nel corso delle prossime settimane potrebbe essere sostenuta anche da una serie di foto che sempre i fan di Uomini e donne avrebbero fatto nel momento in cui beccavano la Galgani in giro per le strade di Torino La dama torinese ha così smentito queste voci clamorose su una possibile storia d'amore nata fuori dagli studi del dating show Mediaset Ma ovviamente in queste ore i fan continuano ad avere dubbi Su social, infatti, dopo la rivelazione shock di Tina Cipollari in puntata sono immersi dei nuovi dettagli su quello che sarebbe il segreto di Gemma Che chi sostiene che la dama sia addirittura fidanzata con questa persona che definescono un uomo distinto di Torino Che cosa creerà di Camma? Che cosa vuoi? 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 Grazie a tutti.